professore Pantino è uno studioso anche della teoria della conoscenza per cui non ci sorprende e che stasera parlare a volume di fuori è che conoscenza e il processo sociale dallo stesso curato e pubblicato qualche inesipato dal editore Robert Pino. La parte più evidente della sua ricerca filosofica, lo so, il Pantino appunta presso l'Università di Oxford per cui da Karl Necher, fondatore della scuola austriaca di economia, è stato definito uno studioso di orientamento anglo-austriaco, considerato possibile per la buona austriaca di economia e la cura delle edizioni italiane, quindi importante è un punto di buon omniscience e forte. La ricerca di infantino affronta le conseguenze della inintenzionalità, delle azioni intenzionali e la ricaduta positiva sugli eventi sociali ed economici. La mano invisibile di Smith, quindi a ricordona, la limitazione del potesso attuale che dovrebbe essere orientato a servire la cooperazione sociale. e le forcoline ancora sono ignorate. La fondibilità, quindi, siano elementi chiari, quindi per non per fare la libertà e lo sviluppo del nostro benessere. Contravenendo lo suggerimento di croce, che nella filosofia si spiega con un bel solo di osciti, la sera mi sono abbandonato a qualche preve ed insufficiente repressione, e sapendo che l'amico lo mette il frattino del suo cuore dentro di mezza stima e grande affetto, mi perdoniamo. In caso contrario, alla prima venuta a Messina, mi hanno detto, c'è il nuovo a Delvera. Non sento più. Era pure messinesi. E' molto legato a Messina. Molto, molto. Bene. Io mi fermerei qui, quindi, e darei la parola a Alberto Nelson per il suo conoscenza e il processo sociale di Polaia. E grazie. Escusa, c'è un'altra parte. Grazie. Grazie a tutti voi e buonasera a tutti. Ho trascorso 50 anni della mia vita dentro le aule universitarie. quindi vi parlo con tutta la gratificazione che può avere un uomo che ha vissuto tutta la vita assieme agli studenti. non faccio più molte lezioni perché ormai sono in pensione, ma faccio un'eccezione per la scuola di liberalismo di Messina. Il mio programma concordato con Pippo era quello di parlarvi questa sera del libro di Von Hayek intitolato Conoscenza e processo sociale. Questo libro non è stato scritto da Hayek. Questo libro è stato ideato da me raccogliendo tutti i suoi contributi relativi alla teoria della conoscenza e relativi all'incidenza della teoria della conoscenza nel campo economico e nel campo politico sociale. Incominciamo a vedere chi sia stato questo Hayek. Hayek è stato il maggiore studioso di ispirazione liberale del Novecento. Molti mi dicono ma come fai a dire che Hayek sia stato il maggiore studioso di ispirazione liberale del Novecento? Ci sono stati Friedman, c'è stato Aron, c'è stato questo, c'è stato quell'altro eccetera eccetera. Io vi dico che se noi non avessimo avuto il contributo di Friedman o di Aron o di altri nomi che voi potete fare liberamente la nostra situazione non sarebbe cambiata. Mentre se noi non avessimo avuto il contributo di Friedrich von Hayek, noi del liberalismo oggi sapremmo molto molto di meno, saremmo disorientati. L'opera di Hayek è un'opera che ci ha consentito di sapere nel Novecento che cosa sia il liberalismo, perché a causa del disgraziato secolo ventesimo molti avevano dimenticato che cosa fosse il liberalismo, che cosa fosse la teoria liberale. Hayek l'ha riformulata, ha raccolto gli insegnamenti dei maggiori studiosi, dei maggiori pensatori liberali e l'ha riformulata in una forma straordinaria, partendo esattamente dalla teoria della conoscenza. Hayek, come voi potete immaginare, è cresciuto nella grande Vienna, è stato allievo di Ludwig von Mises, è stato, possiamo dire, il nipote di Karl Menger. Veniva da una famiglia di studiosi, il padre si occupava di botanica, ma soprattutto il padre gli aveva fatto dono di due grossi volumi sulla teoria dell'evoluzione, sull'evoluzionismo. Quando poi lui si è trovato negli anni universitari, ha scelto di studiare economia e l'economia all'epoca si studiava nella facoltà di giurisprudenza, perché non esisteva ancora una facoltà di economia. E perché ha fatto questo? Perché Hayek, come dice in una sua intervista, dice, pensavo di studiare qualcosa che mi consentisse di avere un lavoro. E così ha fatto l'economista, da principio, e la sua fortuna è stata, dopo essere stato per un breve periodo negli Stati Uniti d'America, di essere tornata a Vienna, di avere scritto un saggio sul paradosso del risparmio, e saggio che è venuto all'attenzione di Lionel Robbins, che era l'economista capo della London School of Economics. Hayek si trova quindi, da semplice libero docente a Vienna, con prospettive molto tristi per la sua carriera, si trova proiettato a Londra. Londra, ovviamente, all'epoca era la capitale, l'Inghilterra era la capitale degli studi economici, e Hayek tiene nel 31 delle meravigliose lezioni sul ciclo economico, che ottengono un grandissimo successo, anche se il pubblico inglese, io credo che non abbia compreso appieno che cosa Hayek volesse dire, perché il pubblico era fatto da economisti di orientamento utilitaristico, mentre Hayek, proveniendo da Vienna per i suoi progressi studi e per l'influenza di Karl Menga, era un evoluzionista. Nel 1933, a soli due anni da queste lezioni tenute a Londra, Hayek tiene una prolusione all'anno accademico, e in questa prolusione vengono fuori delle cose che Hayek non ha sicuramente appreso in quei due anni, ma che si portava dentro, si portava da Vienna, si portava dai suoi studi adolescenziali, che sono concetti tipici della teoria evoluzionistica. Hayek incomincia a parlare nel 1933 di ordine sociale spontaneo, di ordine inintenzionale, e cita Hume, cita Smith, successivamente citerà negli anni a seguire, citerà anche Mandeville. Quindi Hayek transita per l'economia, otterrà il premio Nobel per l'economia, ma Hayek non è stato solamente un economista, sia per i suoi studi precedenti a quelli economici, sia per quello che farà successivamente. Parla di ordine spontaneo, dalla società come ordine spontaneo, e nel 1937 pubblica un saggio intitolato Economia e conoscenza. Ora, Hayek, come voi, molti di voi sapete, è stato impegnato anche nella contestazione della pianificazione socialista. Un libro che lui ha scritto, che contestava sia la pianificazione socialista, che contestava anche il nazismo, e faceva vedere, che mostrava le radici socialiste del nazismo, è stato molto contestato, sicché lui, vista la contestazione che aveva ricevuto, ha pensato di tirare fuori un saggio che aveva scritto quando era ancora studente all'Università di Vienne. Questo saggio è un saggio che riguarda il funzionamento della Mande. Originariamente Hayek avrebbe voluto intitolarlo Che cos'è la Mande. Hayek si dedica al rifacimento di questo saggio, all'ampliamento di questo saggio e pubblica un libro intitolato L'Ordine Sensoriale. Io credo che sia giusto partire da qui, dall'Ordine Sensoriale. Hayek ci spiega che la mente umana, la trasformazione del cervello in una mente umana, avviene spontaneamente. Quindi la nostra mente è un ordine spontaneo. Che cosa significa tutto questo? Significa che noi non possiamo programmare lo sviluppo della nostra mente. Se ciascuno di noi potesse programmare lo sviluppo della propria mente, tutti vorremmo essere Leonardo da Vinci. Ma noi ci ritroviamo con la mente che abbiamo, perché non possiamo controllare la sua crescita e il suo sviluppo. La mente che cos'è per Hayek? La mente è un insieme di regole, attraverso cui noi che cosa facciamo? Afferriamo frammenti di realtà. Sono queste regole che ci consentono di afferrare i fenomeni, che ci consentono di leggere la realtà. E queste regole vengono elaborate dalla mente spontaneamente, senza l'intervento del soggetto interessato. Per cui Hayek giunge a che cosa? Ha una concezione della conoscenza che vede il primato del teorico nella costruzione della scienza. Cioè dire, se noi non avessimo queste lenti, che la nostra mente è come se fosse una lente che ci consente di afferrare frammenti della realtà, che ci consente di uncinare frammenti della realtà. E sono queste categorie mentali che ci consentono di fare. Perché se noi non avessimo a disposizione la nostra mente, noi non potremmo vedere alcunché. Come provato dal fatto che tutti i bambini che rimangono lontani dal contatto con gli altri, che non ricevono un processo di socializzazione, non vengono umanizzati tramite il rapporto con gli altri, questi bambini, dopo un certo periodo di tempo, non possono più diventare umani. Noi diventiamo umani nel rapporto con gli altri. Quindi il bambino conosce per primo i suoi genitori, per ultimo conosce se stesso, perché la nostra mente, la mente del bambino, ancora non è in grado, ma piano piano si forma la sua identità. Conosce prima l'ambiente circostante e poi alla fine accontezza, accontezza di se stesso. Quindi la mente rappresenta un ordine spontaneo e noi attraverso la mente riusciamo a decifrare la realtà. Le regole, la mente è fatta quindi di regole, di norme, che si formano spontaneamente e che noi aggiorniamo continuamente. Oggi si parla dell'intelligenza artificiale e si dice, ah, chissà che cosa verrà con l'intelligenza artificiale, sostituirà la mente umana. Chi parla in questo modo non sa esattamente che cosa stia dicendo, perché la mente umana è un ordine spontaneo. L'intelligenza artificiale è un ordine costruito dalla mente umana. Quindi sono due cose diverse. Tant'è vero che voi potete vedere che quando siete al computer ogni tanto vi arriva l'aggiornamento. Dici, il computer sarà aggiornato questa notte, durante la notte sarà aggiornato. Mi dice un mio amico che compra automobili molto spesso, mi dice che anche per l'automobile adesso arrivano gli aggiornamenti, per cui non si può guidare per tre ore perché c'è l'aggiornamento in corso. Ecco, che cosa significa che c'è un aggiornamento? Significa che la mente umana pone dei nuovi dati all'interno del computer. Ora, la mente umana non ha bisogno di aggiornamenti, si auto-aggiorna. L'aggiornamento della mente umana avviene spontaneamente, perché è un ordine spontaneo. Hayek quindi parte con una teoria, con una sofisticata teoria della conoscenza che contesta molte cose che si sono dette anche nell'ambito della filosofia, ma soprattutto alla luce di questa teoria e di un'altra teoria che anticipa nel saggio di cui vi ho parlato nel 1937, Hayek è in grado di rileggere tutte le scienze sociali e di porre dinanzi a noi una mappa cognitiva attraverso cui noi possiamo orientarci. Nel saggio del 1937 Hayek anticipa che cosa? Il saggio del 1937 è posteriore al saggio che aveva scritto durante gli anni dell'università, ma è anteriore rispetto al volume che pubblica l'ordine sensoriale. In questo saggio, pubblicato nel 1937, Hayek pone l'accento sulla questione della dispersione della conoscenza. Di che cosa si tratta? Lo possiamo chiarire con degli esempi molto semplici. Quando qualcuno viene a casa vostra e nel momento di accomunatarsi cerca di aprire l'uscio, ma non riesce ad aprire l'uscio. Arrivate voi e con un dito aprite l'uscio. Se viene la zia a casa nostra e dice devo andare in bagno, ma arriva al bagno e non sa come accendere la luce e vi chiede aiuto. Come accendere la luce? Le conoscenze di tempo e di luogo sono le conoscenze all'istante, le conoscenze minute, le conoscenze che non rientrano nelle statistiche, le conoscenze che sono infinite e che non possono essere centralizzate. Quindi, non potendo essere centralizzati, noi abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di un processo sociale il più vasto possibile affinché tutti possano partecipare e contribuire con la mobilitazione di queste conoscenze di tempo e di luogo alla ricerca della soluzione dei problemi. quindi non c'è nessuno come avviene in tutta la tradizione liberale non c'è in Hayek un punto di vista privilegiato sul mondo, non c'è una fonte privilegiata della conoscenza. Siamo tutti ignoranti e fallibili. La nostra mente è un ordine spontaneo e per di più siamo ignoranti e fallibili. È vero che le teorie scientifiche potrebbero essere concentrate, ma le conoscenze di tempo e di luogo non possono essere concentrate. Quindi io sul posto sono molto più di colui il quale viene da fuori e un grande scienziato, però le conoscenze di tempo e di luogo di casa mia e del mio appartamento non le conosce. Questa teoria della dispersione delle conoscenze di tempo e di luogo era stata formulata da prima da Ada Smith nella ricchezza delle nazioni. Ora voi mi direte ma Smith è stato semplicemente un economista? No. Commetteremmo un grosso errore a dire, a definire Smith semplicemente un economista, il padre dell'economia politica, va bene, anche il padre dell'economia politica va bene, ma Smith è stato un filosofo a tutto campo e tra i suoi scritti iniziali che sono stati purtroppo pubblicati postumi c'è una storia dell'astronomia antica e a lui contemporanea. e Schumpeter, a proposito di questo libro, di questo trattato, di trattatello di Smith, ha detto che si tratta di una perla e che solo dopo aver letto questo trattato si può esprimere un giudizio su Smith, perché Smith non era un ragioniere che si occupava di contabilità. Smith era uno scienziato sociale e aveva avanzato questa teoria della dispersione della conoscenza. Ad essere precisi, questa teoria della dispersione della conoscenza si può trovare anche in Montesquiet nelle prime pagine dello Spirito delle Leggi. Montesquiet dice che coloro i quali si trovano nella piazza sanno molto più del sovrano che si trova chiuso nel suo palazzo e che nessuno avrebbe in mente di affidare al sovrano la conclusione di particolari trattative commerciali perché il sovrano non sa nulla delle conoscenze di tempo e di dopo. Quindi c'è una dispersione delle conoscenze che parte da Montesquiet voi sapete che lo spirito delle leggi di Montesquiet è stato pubblicato nel 1748 la ricchezza delle nazioni è apparsa nel 1776 quindi insomma sicuramente Smith ha tratto vantaggio dalla opera di Montesquiet quindi nella tradizione liberale c'è questo c'è il problema che gli individui sono ignoranti e fallibili non c'è il punto di vista privilegiato non c'è un signore che sia portatore della verità non c'è che cosa in fondo la tradizione liberale ha fatto ha distrutto il mito del grande legislatore rammentate quando a scuola nei nostri licei polverosi ci parlavano di Licurgo e dicevano che Licurgo fosse stato un grande uomo ecco alla luce della teoria liberale i Licurgo non esistono o i Licurgo se esistono sono fallibili al pari degli altri quindi l'Oracolo può dire che Licurgo è caro agli dèi così rispose l'Oracolo interrogato e Licurgo andò dicendo io sono caro agli dèi e vi darò leggi però se vogliamo stare al di qua delle prove delle computazioni cioè dire non oltrepassare il limite di entrare nel territorio del divino dobbiamo dire che gli uomini dobbiamo riconoscere che tutti gli uomini condividono la condizione di ignoranza e fallibilità condividendo la condizione di ignoranza e fallibilità l'unica soluzione che abbiamo noi è quella di procedere non attraverso l'individuazione di chi possa essere portatore della verità ma attraverso un processo che consiste nella continua correzione degli errori nella continua esplorazione dell'ignoto nessuno possiede la verità quindi che cosa possiamo fare le nostre soluzioni sono sempre parziali e provvisorie e procediamo attraverso la continua correzione degli errori e abbiamo bisogno della più vasta partecipazione perché la più vasta partecipazione significa la mobilitazione di queste conoscenze che sono largamente disperse all'interno della società se noi non sappiamo questo o non teniamo presente tutto questo non possiamo dichiararci liberali non possiamo addentrarci nel territorio del liberalismo anche perché c'è un passaggio che è fondamentale vi parlerò poi dell'economia ma questo passaggio mi sembra che io lo debba anticipare c'è una simmetria una forte simmetria tra ciò che avviene nel campo della conoscenza e ciò che avviene nel campo del diritto perché nel campo della conoscenza noi procediamo attraverso la correzione dei nostri errori ma nel campo del diritto o nell'ambito del governo della legge quindi il diritto significa governo della legge nell'ambito del diritto noi non possiamo non siamo in grado o perlomeno la concezione liberale o il diritto stesso che è fatto proprio dalla tradizione liberale non consente di formulare il concetto di giustizia in termini positivi noi il grande legislatore lo formula in termini positivi e ci dice che cosa noi dobbiamo fare ma nella grande società nella società liberale il diritto non ci dice che cosa è giusto il diritto ci dice che cosa è ingiusto quindi noi procediamo anche nel campo del diritto procediamo attraverso l'eliminazione di ciò che è ingiusto nel campo della conoscenza procediamo attraverso la correzione degli errori e nel campo del diritto procediamo attraverso che cosa l'individuazione dice ok è ingiusto la norma giuridica non ci dice che cosa dobbiamo fare la norma giuridica ci dice soprattutto che cosa non dobbiamo fare poi noi scegliamo e imbocchiamo una strada e questa strada ovviamente la percorriamo utilizzando che cosa utilizzando il percorso che il diritto ci suggerisce ma la scelta è nostra se io devo acquistare un appartamento la decisione è mia ma nel momento in cui decido di acquistare un appartamento scatta immediatamente la norma giuridica e io devo seguire l'itinerario che la norma giuridica mi suggerisce quindi c'è una stretta relazione tra il riconoscimento della nostra ignoranza e fallibilità ciò che c'è nel campo della teoria della conoscenza e ciò che c'è nel campo giuridico le norme giuridiche le norme del diritto le norme del diritto non ci dicono che cosa dobbiamo fare ma soprattutto che cosa non dobbiamo fare quindi l'ordine il problema fondamentale delle scienze sociali qual è? è la compatibilità delle azioni umane la compatibilità come rendere compatibile lo vediamo anche nelle nostre famiglie come si riusciamo a rendere compatibili le nostre azioni questo è il problema fondamentale delle scienze sociali e che il liberalismo ha risolto è stata la prima teoria politica a risolvere questo problema anticamente si riteneva che il grande legislatore ci dovesse dire che cosa noi dobbiamo fare affinché le nostre azioni potessero essere compatibili questa era la teoria ma il liberalismo ci dice un'altra cosa proprio attraverso il diritto ci dice che noi non abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica che cosa noi dobbiamo fare è sufficiente che noi non facciamo danno agli altri quindi ecco perché il diritto dice non che cosa fare ma che cosa non fare la giustizia si declina in termini negativi non in termini positivi in termini negativi l'ingiusto non fare danno agli altri il resto può essere lasciato alla libera cooperazione volontaria è sufficiente che noi non richiamo danno agli altri poi ci mettiamo d'accordo su che cosa fare e una volta che decidiamo che cosa fare dobbiamo seguire il canale la canalizzazione prevista dal diritto quindi come vedete ci troviamo in un universo affascinante è stata un'idea magnifica questa qui su cui hanno lavorato uomini come Mandeville come Hume come Smith che nel settecento come Montesquieu che nel settecento ci hanno regalato queste grepe il settecento è uno scrigno uno scrigno pieno di cose preziosi basta leggere gli autori del settecento per rendersi conto di quanta ricchezza noi abbiamo ereditato da loro magari il ventesimo secolo avesse avuto la ricchezza del settecento non avremmo avuto le tragedie che abbiamo avuto ebbene il diritto ci consente la compatibilità delle azioni senza rinunziando quindi noi rinunziamo al punto di vista privilegiato sul mondo teoria della conoscenza e rinunziamo a che cosa alla prescrizione del grande legislatore ci basta il diritto che ci dice che cosa non dobbiamo fare e allora che cosa avviene il passaggio successivo è il seguente noi cooperiamo intenzionalmente attraverso noi cooperiamo intenzionalmente con gli altri la nostra cooperazione con gli altri è intenzionale ma l'ordine che si stabilisce l'ordine complessivo che si stabilisce è di carattere inintenzionale noi contribuiamo ma nessuno di noi è responsabile dell'ordine che si viene a realizzare il diritto ci garantisce che l'ordine ci sarà ma non ci dice quale ordine si realizzerà non può dircelo perché l'ordine che si stabilirà e si realizzerà nel futuro dipenderà dalle scelte libere che ciascuno di noi farà questo è decisivo insomma se non si comprende questo non si comprende il liberalismo noi facciamo le nostre scelte nell'ambito ovviamente rispettando le regole del diritto e cooperiamo intenzionalmente con gli altri ma il risultato il diritto ci garantisce un ordine astratto il diritto il diritto è un ordine astratto che non può non può anticiparci quale sarà l'ordine concreto perché l'ordine concreto dipende dalle nostre scelte il diritto ci dice che ci sarà l'ordine è fatto per questo il diritto ma non ci dice quale ordine concretamente si realizzerà perché questo dipende dalla nostra libertà di scelta la nostra libertà di scelta dipende appunto dal fatto che il diritto ci dica che cosa non dobbiamo fare ma non ci dice che cosa dobbiamo fare quello che dobbiamo fare lo decidiamo noi da un momento all'altro siamo sicuri che ci sarà quest'ordine ma non sappiamo in anticipo quale sarà è l'ordine a carattere inintenzionale non è voluto da alcuno è il risultato di un processo sociale aperto a tutti e questo è il diciamo la piattaforma su cui su cui AIAC ha lavorato e ha lavorato per tutta la vita ha lavorato intensamente per tutta la sua vita con tappe successive il che significa che molte cose che ci hanno insegnate al liceo non sono corrette molte cose che ci hanno insegnate al liceo non sono corrette io in questo periodo mi sto occupando della mi sto occupando di Cartesio e allora tutti ci dicono ah Cartesio grande la ragione l'uomo acquista Cartesio fa l'elogio di Sparta Cartesio ritiene che noi possediamo la verità manifesta Cartesio ritiene che l'ordine sociale debba essere un ordine intenzionale se l'ordine è intenzionale allora non c'è libertà di scelta c'è una gerarchia obbligatoria di fini a cui tutti dobbiamo sottoporci e Cartesio ha influenzato buona parte degli enciclopedisti francesi i quali hanno fatto l'elogio di Sparta l'elogio di Licurgo nell'enciclopedia francese c'è l'elogio di Licurgo l'elogio la magnifica la meravigliosa repubblica spartana si parla della meravigliosa repubblica spartana c'è che cosa c'è questo razionale questo Hayek lo ha chiamato costruttivismo gli autori di cui noi ci siamo di cui noi ci occupiamo che sono i maestri i creatori i fondatori del liberalismo vengono soprattutto David Hume viene considerato un antirazionalista ma David Hume non è stato un antirazionalista non lo è stato Mandeville non è stato Smith loro sono stati degli anticartesiani degli anticostruttivisti che cos'è il costruttivismo di cui Hayek ci parla continuamente il costruttivismo di cui Hayek ci parla consiste in che cosa nella presunzione che le istituzioni e le regole sociali siano un prodotto diretto della mente umana mentre le istituzioni e le norme sono un prodotto del processo sociale non della mente del singolo uomo o di pochi decisori che si riuniscono in una stanza e stabiliscono come fare le istituzioni la maggior parte delle istituzioni sono nate per via inintenzionale come noi ospitiamo la nostra società è una società il cui ordine si stabilizza inintenzionalmente molte istituzioni sono nate inintenzionalmente a cominciare dal linguaggio il linguaggio non c'è un creatore del linguaggio perché se ci fosse un creatore del linguaggio avrebbe avrebbe già disponibile il linguaggio quindi non possiamo noi pensare che il linguaggio che ci sia stato un creatore del linguaggio il linguaggio è nato spontaneamente attraverso l'interazione c'è un nuovo soggetto il liberalismo crea un nuovo soggetto l'interazione il processo sociale non la mente del singolo non la mente di Dio non la mente del singolo ma la mente ma c'è un soggetto diverso una terza persona che la possiamo chiamare una simbolica terza persona che è l'interazione il processo sociale il processo sociale è un processo ateliologico che nessuno può controllare ma che dà dei risultati pensate al linguaggio pensate al diritto stesso il diritto stesso è nato nelle colonie ioniche dell'Asia minore spontaneamente non è nato attraverso la costruzione di un uomo è nato prima il diritto dice Jering prima è nato il diritto e poi è nato il sentimento del diritto pensate alla famiglia pensate alla città pensate al danaro il danaro non è nato intenzionalmente non è una creazione della mente umana è nato attraverso il processo sociale sono tutte queste istituzioni che nascono attraverso il processo sociale che non è controllato da alcuno capita di trovare una soluzione a volte incidentalmente che poi viene copiata dagli altri e quindi si va avanti e poi questo il processo viene accettato da tutti il processo e si afferma una norma si afferma una istituzione si afferma una soluzione che ovviamente è una soluzione provvisoria perché il processo continua e può darsi che i risultati nuovi vengano a soppiantare le soluzioni antiche quindi se vogliamo accostarci al liberalismo e soprattutto se vogliamo comprendere l'opera di Hayek dobbiamo partire da questi presupposti dall'idea del fallibilismo dell'ignoranza e della fallibilità dall'idea che l'ordine sociale è reso possibile dal governo della legge dal diritto Hayek ci spiega questa cosa che sovente viene ripetuta meccanicamente dai giornalisti da professori in vacanza eccetera che ci dicono la divisione dei poteri la divisione Montesquieu la divisione dei poteri la divisione dei poteri è la conseguenza del fatto che noi ci siamo sottratti al governo dell'uomo solo se uno legge la ricchezza se uno legge lo spirito delle leggi non se ne rende conto ma se legge tutte le opere di Montesquieu capisce comprende che Montesquieu quando parla di divisione dei poteri intende dire che il potere non può essere concentrato nelle mani di un uomo solo questo significa divisione dei poteri perché se c'è un uomo solo c'è una gerarchia obbligatoria dei fini tutto viene centralizzato la divisione dei poteri significa governo della legge se viene meno il governo della legge e l'autonomia quindi la libertà di scelta degli individui viene meno la divisione dei poteri e diciamo che la divisione dei poteri di cui parla Montesquieu nello spirito delle leggi è la punta di iceberg di un lavoro che lui portava avanti da moltissimi anni e che aveva come obiettivo polemico costante il governo di un uomo solo il governo di un uomo solo già quando parla di Roma della grandezza e della decadenza di Roma Montesquieu si sofferma su Augusto su Ottaviano che dice poi il popolo lo ha incensato è diventato Augusto ma era il governo di un uomo solo era il governo di un uomo solo e quindi da questa se volete possiamo possiamo arrivare anche al problema della divisione dei poteri anche partendo dal concetto dalla teoria della dispersione della conoscenza se la conoscenza è dispersa il potere deve essere limitato il sovrano non ha gli elementi per decidere il sovrano deve essere limitato perché non è in grado di decidere non ha gli elementi come diceva Montesquieu la piazza sa più del sovrano quindi il potere deve essere limitato per una ragione gnosiologica noi pensiamo che il liberalismo dica queste cose perché gli uomini sono belli perché sono buoni perché no il liberalismo si basa su una teoria della conoscenza che è la base di tutto perché dalla teoria della conoscenza arriviamo poi al governo della legge e così via ovviamente Hayek non si è occupato solo di questo vi ho detto che ha attraversato anche il territorio il territorio economico e la cosa che mi preme dirvi Hayek si è occupato soprattutto all'inizio si è occupato della teoria del ciclo economico ma questa sera non vi parlo di questa cosa ma mi sta a cuore parlarvi di un'altra idea che si trova proprio in economics and knowledge il saggio del 1937 è lì che Hayek ci spiega che cosa partendo da quello poi ci spiega che cosa ci spiega che la concorrenza già c'è un'anticipazione al 1937 poi ritornerà con altri due saggi sull'argomento ci spiega che cosa che la concorrenza che noi a volte non sappiamo come definire insomma dice ah c'è concorrenza ci sembra una cosa così insomma si sembra una specie di geroglifico di difficile decifrazione la concorrenza che cos'è la concorrenza è un procedimento di esplorazione dell'ignoto la concorrenza perfetta l'obiettivo polemico di Hayek è la concorrenza perfetta perché gli economisti lavorano con l'idea della concorrenza gli economisti la teoria economica prevalente lavora con l'idea della concorrenza perfetta e la concorrenza l'idea della concorrenza perfetta presuppone che tutti gli uomini abbiano la stessa conoscenza e che tutti abbiano la conoscenza la simultanea conoscenza dei dati del mercato che tutti abbiano la simultanea conoscenza dei dati del mercato il che è impossibile se tutti avessimo se tutti avessimo la simultanea conoscenza dei dati del mercato noi non avremmo bisogno della concorrenza la concorrenza è un lo strumento attraverso cui noi cerchiamo di individuare chi di noi sa far meglio, chi di noi sa risolvere i problemi, quindi è un procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. La concorrenza perfetta di cui ci parlano i testi di economia non esiste ed è anche dannoso pensare in quel modo, non ci illumina sulla realtà, soprattutto non ci fa capire perché abbiamo bisogno della concorrenza. Ne abbiamo bisogno perché tutti siamo ignoranti e fallibili, non c'è una conoscenza simultanea di tutti i dati da parte di tutti gli attori. Ci sono alcuni che riescono a formulare delle congetture che risultano poi corrette e ci sono poi altri che formulano delle congetture che non risultano corrette. Diceva Mandeville che noi ogni giorno cambiamo idea ma siamo riluttanti ad accettarlo, ma perché cambiamo tutti i giorni idea? Perché ogni giorno facendo i conti con la realtà capiamo che le nostre congetture sono state mal formulate, che non sono corrette, che dobbiamo correggerci, quindi procediamo sempre attraverso la correzione. degli errori. Il liberalismo è questo, non sono le melodie che talvolta sentiamo o i politici che ripetono noi liberali e non sanno che cosa sia il liberalismo. Tristevo un giornalista che diceva ma io una sera in una trasmissione io non le vedo perché insomma preferisco vedere il cinema, amo molto il cinema e la storia del cinema. Dice io sono ajacchiano ma un ajacchiano conservatore e la cosa mi riempiva, ero pieno di risate dentro di me sentendo queste cose perché Ajac scrive un po' scritto a una delle sue opere più importanti The Constitution of Liberty in cui mette proprio queste pagine finali e scrive dice perché non sono un conservatore, perché non sono un conservatore, spiega perché non è un conservatore. Invece questo giornalista che si vantava di essere ajacchiano in televisione dice io sono un ajacchiano ma un ajacchiano conservatore. Ora Ajac dice che il conservatorismo non coincide con il liberalismo, sono due cose diverse. Perché il liberalismo si affida al processo sociale, il conservatore vi dice affidate tutto a me che io risolvo i vostri problemi, c'è la presunzione di conoscere. Ajac ha scritto anche un libro su questo, la presunzione fatale, la presunzione di conoscere. Ecco noi se vogliamo essere liberali dobbiamo rinunziare alla presunzione di conoscere e se volete essere precisi, se volete poi addirittura andare alle origini, vi posso dire che questa idea della presunzione di conoscere si trova in Michel de Montaigne. Nei saggi di Michel de Montaigne troverete che Montaigne dice la presunzione di conoscere. Noi dobbiamo liberarci da tutto questo per poter essere liberali. Ovviamente l'Italia, il liberalismo non è nato in Italia, è inutile farci illusione. Il liberalismo non è nato in Italia. E poi io dicevo, andavo per alcuni anni sono andato nella mia terra, la Calabria, e c'era uno che dice noi dobbiamo mandare un messaggio liberale dalla Calabria. Io insomma, anche qui molte risate dentro di me, il liberalismo non è nato in Italia e non è nato in Calabria. Il liberalismo è nato in Gran Bretagna, per essere precisi. Tayac è molto benevolo, dice che anche in Francia c'è una corrente minoritaria che si ispira alle istituzioni britanniche, ma gli enciclopedisti non erano liberali. Gli enciclopedisti pensavano di poter costruire una nuova Sparta alla luce della potenza della ragione. Ora la ragione individuale è una ragione fallibile, limitata. C'è una tradizione francese che si ispira alle istituzioni inglesi. Montesquieu ha soggiornato due anni in Inghilterra, ha studiato le istituzioni britanniche, Montesquieu ha amato le istituzioni britanniche. Possiamo dire di Benjamin Constant che ha scritto contro Rousseau e quindi possiamo parlare di Tocqueville, ma questi sono tutti minoritari rispetto alla cultura francese, sono minoritari. Questi si ispirano alla cultura britannica, sono liberali perché si ispirano alla cultura britannica, non sono liberali perché francesi, ma perché si ispirano alla cultura britannica. Quindi noi non possiamo dire che siamo la terra originaria del liberalismo. Vi dico di più che alla fine, come vedete sto parlando, dicendo molte cose, insomma non voglio fare una lezione di quelle scolastiche eccetera eccetera, non mi sono mai piaciute. E vi dico di più, Hayek, noi alla fine dell'Ottocento abbiamo importato una cultura tedesca che ci sembrava fosse la migliore del mondo. E gli austriaci, gli economisti austriaci, Menga e innanzitutto, ma poi Mises e anche Hayek, hanno polemizzato con quella cultura, perché quella cultura tedesca che noi abbiamo importato alla fine dell'Ottocento in Italia e ci sembrava di fare chissà che cosa. C'è stato anche un professore, un giurista che io ho incontrato un giorno in un'università e mi ha detto io, io sono un liberale che si ispira a Hegel, voi capite? Un liberale che si ispirava a Hegel. E quella cultura che noi abbiamo importato in Italia alla fine dell'Ottocento pensando di fare chissà quale opera culturale, quella è la cultura che ha fornito le basi culturali al nazismo. Quindi, se vogliamo orientarci nel mondo delle idee politiche, dobbiamo capire che il liberalismo è l'idea dell'ordine inintenzionale. Hayek ha tutta la vita allottato per spiegare che cosa sia l'ordine inintenzionale. In fondo, se volete, consentitemi di dirvi questo, ma non vi arrabbiate se non è chiaro il concetto. La responsabilità non è del concetto ma mia che non riesco a esprimerlo bene. Noi ci affanniamo sempre su destra e sinistra, che cosa è destra e che cosa è sinistra, ma la verità è che c'è un discrimine molto diverso e molto più penetrante. Noi dobbiamo stabilire chi è per il governo della legge e per chi è contro il governo della legge. Noi dobbiamo stabilire chi è a favore dell'ordine inintenzionale, quindi della libertà individuale di scelta, e chi è contro l'ordine inintenzionale. E noi possiamo vedere, se prendiamo questi due strumenti per decifrare la realtà, noi ci rendiamo conto che sovente l'opposizione all'ordine inintenzionale, al governo della legge e all'ordine inintenzionale viene fatto sia da destra che da sinistra. Popper parlava di una bizzarra alleanza, una bizzarra alleanza contro che cosa? Contro la libertà di scelta. Aya ci aiuta a capire tutte queste cose. Noi sovente ci affanniamo, io sono di destra, io sono di sinistra, io sono... Il problema non è quello, soprattutto in un paese come l'Italia non è quello. Il problema è stabilire chi è a favore del governo della legge e dell'ordine inintenzionale e chi è contro. Io mi posso dichiarare liberale quanto volete, ma se io penso che l'ordine sociale, la compatibilità debba essere dettata dai poteri pubblici, posso essere di destra o di sinistra, ma sono contro la libertà. Ovviamente dobbiamo sbarazzarci di un concetto molto elementare. Quando c'è il grande legislatore onnisciente, quando c'è un'autorità che impone una gerarchia obbligatoria di fini, noi parliamo di bene comune che viene raggiunto. In una società che rende possibile la compatibilità delle azioni tramite il governo della legge e che dà vita a un ordine inintenzionale, il bene comune non è una meta che noi dobbiamo collettivamente raggiungere. Il bene comune e l'insieme delle regole del diritto consentono a ciascuno di noi di esprimere la libertà di scelta, perché maggiore è la libertà di scelta che noi possiamo esprimere e più efficace sarà il processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Ripeto questo concetto cercando di renderlo più chiaro. Se c'è una gerarchia obbligatoria di fini, il legislatore o chi è al potere ci può dire, può far coincidere la nostra volontà con la gerarchia di fini che egli ci impone e ci dice questo è il bene comune, ma è il bene comune che lui ha deciso e che noi dobbiamo accettare. In una società libera in cui il governo della legge ci consente di esprimere la nostra libertà di scelta non c'è una meta comune, di comune ci possono essere le regole, e sono le regole del diritto. Di comune non c'è una meta, perché ciascuno di noi ha una meta propria a mille mete proprie, a diecimila mete proprie, e queste mete le cambia di giorno in giorno. Quindi non può esserci un bene comune considerato come un destino che noi dobbiamo raggiungere. C'è semplicemente il bene comune come insieme di regole che consentono a ciascuno di noi di esprimere la propria libertà e quindi di mobilitare il maggior numero di conoscenze e di risorse per poter alimentare il processo di correzione, di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. C'è un altro punto su cui Hayek è stato molto preciso e su cui desidero soffermarmi. Ovviamente parlando di processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori, dobbiamo parlare anche della questione della proprietà privata. Non si possono mobilitare le nostre idee senza risorse. Quindi pensare che ci possa essere libertà senza proprietà privata è una pia illusione. Nel dibattito che c'è stato tra Einaudi e Croce, Einaudi è stato troppo buono dal mio punto di vista, perché si è limitato a dire che senza la proprietà privata non ci può essere. Ma la storia delle idee, a partire dal medico francese François Bernier, che aveva fatto dei viaggi nell'estremo Oriente, ci dice che se non c'è proprietà, se non c'è proprietà privata, se non c'è la possibilità di mobilitare le risorse, non ci può essere libertà individuale di scelta. Hayek ha formulato in maniera impeccabile questa idea attraverso un teorema quasi il suo, che dice che colui il quale possiede tutti i mezzi determina tutti i fini. E questo lo possiamo vedere anche con un esempio molto pratico, fatto con riferimento alla nostra riunione di questa sera. Se tutte le aule universitarie o tutti fossero di proprietà dello Stato, noi potremmo riunirci solo se l'argomento di cui noi vogliamo discutere è un argomento che ottiene il consenso da parte di colui il quale possiede tutti gli appartamenti, tutte le aule di insegnamento, tutte le aule di riunione, tutti i teatri, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno della proprietà privata, sia per raggiungere finalità di carattere ideale, sia per raggiungere finalità di carattere materiale. Se io voglio regalare un mazzo di fiori a una signora, non posso che devo disporre di risorse perché sennò non potrei farlo, sarebbe una pia illusione pensare di poterlo fare. E così tutti i nostri progetti si possono realizzare, le gambe su cui si muovono i nostri progetti sono le risorse, le risorse devono, deve esistere la proprietà privata in fondo che cos'è? E' forse la pietra angolare del governo della legge, senza proprietà privata non è possibile la libertà individuale di scelta, non è possibile il liberalismo, il liberalismo. Quindi nella polemica tra Croce ed Einaudi, io sono ferocemente dalla parte di Einaudi. Che cosa dirvi di più? Hayek ha posto sulle proprie spalle il destino del liberalismo. Il Novecento si era aperto in maniera rovinosa e poi c'è stato l'episodio, prima la guerra mondiale, c'è stata dapprima la grande guerra, il grande conflitto, dal grande conflitto sono usciti tutti i grovigli e tutte le cose che tutti sappiamo. Poi ci sono state le esperienze del totalitarismo, anzi, una prima esperienza del totalitarismo è coeva alla grande guerra, che è quella del totalitarismo comunista sovietico. Dopodiché ci sono state due esperienze nel cuore dell'Europa e queste esperienze tutte sono state rivolte contro il liberalismo. E' stato il tentativo di sradicare la libertà individuale di scelta. Queste esperienze sono state variamente giustificate. Il comunismo è stato giustificato con l'idea della liberazione dell'uomo, della redenzione, con la liberazione dell'uomo dai problemi maledetti. Il nazismo e il fascismo sono stati giustificati in maniera diversa, ma il problema è sempre lo stesso. Il nemico è sempre uno, la libertà individuale di scelta. E quindi, quanto vi dicevo, destra, sinistra, poc'anzi, viene confortato da quello che vi sto dicendo. Sono stati i tentativi di sradicare la libertà individuale di scelta, che è il prodotto di un lungo parto storico. E se noi oggi siamo in grado di decifrare tutto ciò che è avvenuto e possiamo orientarci per il futuro, lo dobbiamo all'opera di questi grandi uomini. Io ho incominciato dalla scuola austriaca di economia, ma poi attraverso Hayek sono risalito, perché avevo letto quegli autori ma non avevo capito molto. Però Hayek mi ha dato la chiave di lettura e ho capito Mandeville e i moralisti scozzesi, che sono stati dei grandi teorizzatori dell'idea di libertà. Vi posso portare un esempio su cui Hayek si è attardato. Vi posso portare l'esempio di David Hume, che viene studiato a scuola così, di Smith c'è mezza paginetta in genere nei dicei, ma non più di mezza paginetta in cui si dicono delle banalità. Di David Hume si dicono cose che non sono centrali nell'ascito che noi abbiamo ricevuto da lui. Dobbiamo pensare che Hume è stato un grandissimo difensore del governo della legge. La filosofia del diritto di David Hume è una delle cose che noi dobbiamo sapere, che non ci possiamo consentire il lusso di saltare, appiappare o di trascurare. David Hume è stato colui il quale ci ha insegnato che la violazione del diritto, anche quando può sembrare opportuna, produce effetti nefasti nel medio e lungo periodo, che non bisogna mai fare eccezioni, che bisogna sempre rispettare le regole. Quindi credo di poter completare qui, anche perché credo di avere espresso concetti un po' inusuali per quello che viene detto normalmente nelle aule universitari oppure nei licei, e quindi aspetto le vostre domande per rispondere con attenzione a tutto quello che mi direte. Grazie. Grazie, grazie Lorenzo. Le tue lezioni magistrali dimostrano sempre che tu sei un protagonista della... Eccezionale lezione, complimenti. Grazie, grazie Enzo. Io ho preso appunti pure, che mi servono per mettere in manutenzione il mio liberalismo. E in continua manutenzione. Sempre di tutti, deve essere sempre in manutenzione. Quello di tutti, non solo. Bene. Se c'è qualcuno che mi... Qualche domanda che mi... La domanda che ti volevo fare io, posso? Sì. No, no. Il collegamento... Un autore non hai citato. Sì. Il collegamento tra Iac e Popper. Ah, ecco, sì. Senz'altro, Enzo. Il collegamento tra Iac e Popper è presto fatto. Iac ha vissuto in una Vienna che era dominata dal neopositivismo. e ovviamente era insoddisfatto della filosofia prevalente nell'ambiente che lui frequentava. E di questo, sì, in un viaggio fatto da Londra a Vienna, probabilmente sarà stato un periodo natalizio, eccetera, eccetera, incontrò un suo collega, un altro grande economista, grande economista che poi è andato negli Stati Uniti d'America, Aberlard, il quale gli disse, sai, è uscito dagli ambienti neopositivistici un libro che forse ci può interessare che in effetti non era un libro uscito dagli ambienti neopositivistici perché Popper sosteneva tesi diametralmente opposte. E appunto. E appunto. E allora, da quel momento in poi è incominciata l'amicizia fra Iac e Popper, tant'è vero che Iac invitò Popper in Inghilterra e poi gli trovò un posto in Nuova Zelanda. Quindi è stato un grandissimo sodalizio. E dal punto di vista epistemologico le differenze tra Popper e Iac sono pochissime, nel senso che c'è una totale sovrapposizione. Tieni presente che Iac ha dedicato un libro, gli Stadis li ha dedicati a Karl Popper e Popper in una lettera gli dice tu sei stato il più grande di tutti, sei colui il quale... E poi mi dice mi hai salvato la vita per due, tre volte, non lo so. E la prima volta mandandoli in Nuova Zelanda, una seconda volta quando lo ha fatto rientrare dalla Nuova Zelanda e gli ha fatto avere un posto alla London School of Economics, proprio nel momento in cui Iac partiva alla volta dell'America perché era stato chiamato a Chicago. Quindi c'è stato un grandissimo sodalizio fra questi due uomini. Tant'è vero che la società aperta ai suoi nemici di Popper è stata pubblicata dalla Routledge di Londra su interessamento di Iac che avrebbe voluto anche scrivere la prefazione. Ma Popper disse no, non c'è bisogno di prefazione e quindi uscì in quel modo. Quindi sono dei gemelli, insomma, da questo punto di vista nella teoria della conoscenza sono dei gemelli, Iac e Popper. Ottimo. Allora, posso... Allora, chiaramente ci stavo ringraziando te per l'intervento di questa serie, ma... faccio girarti lo schermo per favore. il problema di... L'ho reso per dire, eh? Io sento, io sento, dimmi. Grazie, abbiamo... Grazie. C'è quindi che le tue lezioni possano sempre perché tu sei il protagonista della cultura liberale europea e perché sei la prosentata di maggior individuo quindi del pensiero ti ha e perché consegni se uno è il più grande filosofo contemporaneo in questo momento. E non è soltanto una questione di affetto in stima, ma sono riconoscimenti che ti vengono arrivati a tutti. che dire, ehm... Quando ho incominciato a leggere questo libro da tempo lato mi dicesse ho detto a vostri carti quando leggerai la prima parte che parlerà di ordine sensoriale, di ordine presensoriale, di conoscenza senza parte del cervello e della mente. Non preoccuparti su quelli e pari amati perché quello sarà tutto più semplice. Io ti ringrazio di questo dire quindi ho capito che non sia l'occhio sensoriale quindi cosa sia quindi la profondazione del cervello in mente e eccetera e in effetti tutto è in effetti e in effetti qui hai chiarito anche di tutto che vogliono dire che è quello dell'indipadismo perché qualcuno a volte associa agli o a nozze in particolare con nozze eccetera e eccetera niente bravo e quando la libertà di scelta individuale è regolata poi la legge significa che la l'antia è non possibile e quindi attraverso che più e per questa sera abbiamo chiarito anche questo aspetto e quindi la libertà di scelta è tutta volta ci avvicini all'aria sembra più di quanto noi non lo siamo stati e a volte ci dicono anche in sepoluto ne parliamo quindi spesso e a volte ci mettiamo conto forse di essere in l'interno con una concrezione che riguardano l'eternalismo e ci conduce questa la inintenzionalità azioni che è anche spiegata chiaramente questo perché poi possono poter azioni e dire e la libertà di scelta individuale deve poi accontarsi non bene che la cooperazione sociale va bene quindi questo è un aspetto veramente interessante e io ti dire che ogni volta adesso come dire la di attre e qui mi dice ad andare avanti su perché quindi ok così qualche almeno che poteva essere rimasto e da parte tu lo hai detto in altre occasioni perché anche l'economia non è vero che esiste il punto di attento dello stato che è un momento in cui non è un bambinismo e questa è la preoccupazione a volte che fa nascere l'arrivo in l'arrivo anche questo se posso fermarti un attimo non è un risultato spezzella ma se capisco la tua domanda tipo perché non ti ho sentito molto bene l'ascolto non è dei migliori l'audio non è dei migliori se capisco la tua domanda dice l'intervento dello Stato nell'economia mi sembra che sia questo il problema e allora ti dico quello che sull'argomento io sostengo alla luce degli studi che ho fatto con questi grandi tramite questi grandi autori se lo Stato deve intervenire per realizzare profitto come tutti gli altri è inutile che intervenga perché ci sono già gli imprenditori privati se lo Stato interviene per sopportare delle perdite ed allora dobbiamo pensare che queste perdite le dobbiamo pagare noi contribuenti e in secondo luogo se un'impresa produce imperdite significa che c'è una errata allocazione delle risorse questa errata allocazione delle risorse determina una caduta della produttività e nel medio e lungo termine produce una caduta del benessere collettivo cioè a dire noi dobbiamo cercare di accettare i risultati che sono determinati dalla libera mobilitazione delle conoscenze disperse all'interno della società se noi non accettiamo il risultato della libera mobilitazione delle conoscenze disperse all'interno della società allora noi stiamo manomettendo il meccanismo di mercato allora bisogna sapere per quale fine stiamo manomettendo il meccanismo di mercato lo stiamo manomettendo per quale motivo per favorire le nostre clientele politiche lo stiamo manomettendo per quale altro motivo perché abbiamo dei sodali da avvantaggiare ma i sodali da avvantaggiare non sono degli imprenditori come Max Weber ha a suo tempo posto in luce coloro i quali lavorano in combutta con la politica non sono degli imprenditori sono degli avventurieri quindi voglio dire l'intervento che noi a volte giustifichiamo con le più nobili intenzioni con i più nobili ideali questi interventi alla luce della teoria liberale si dimostrano semplicemente dei favori che la politica concede agli amici a coloro i quali si trovano in una posizione di maggiore vicinanza con il potere politico spesso si tratta solo di questo comunque dobbiamo sapere che se l'intervento dello Stato produce delle perdite noi siamo in presenza di una caduta della produttività quindi di una cattiva allocazione delle risorse e questa caduta della produttività nel medio e lungo periodo determina una caduta anche del benessere collettivo e soprattutto fa sì o spinge il paese in una posizione di retroguardia nella competizione internazionale di questo dobbiamo di questo dobbiamo renderci conto con realismo dobbiamo accettare tutto questo ovviamente non significa che lo Stato non debba intervenire perché anche Hayek sostiene solo che nella teoria liberale lo Stato interviene in via residuale anche Hayek stavo per dire Digenen in diritto legislazione e libertà parla di casi in cui lo Stato deve intervenire ci sono situazioni di Hayek addirittura parla di una imposta di carattere positivo perché tutti possano avere un certo reddito che nessuno possa andare al di sotto di quel determinato reddito quindi Hayek non è sordo non è cieco di fronte alle istanze che ci sono nella società ci sono vedove orpani invali di vario tipo persone che per vari motivi si trovano in una situazione di disagio noi di questo la società è questa la società deve occuparsi di queste cose però deve occuparsi fuori dal mercato lo Stato imprenditore non funziona perché lo Stato imprenditore sovente è semplicemente uno strumento attraverso cui elargire cariche e compensi agli amici e ai sodali del ceto politico grazie ci sono c'è qualcuno che vuole domanda una lezione così chiara spero spero che sia stata chiara si è stata sedita 150 studenti spero spero che comprino questo libro così troveranno tutto c'è la mia prefazione e c'è anche e c'è anche e c'è anche il testo della commemorazione di Smith che ho fatto lo scorso 5 giugno alla Lewis ma non c'è dubbio non c'è dubbio va bene Lorenzo grazie a tutti voi e buona serata a tutti ciao Lorenzo grazie ciao Lorenzo un abbraccio a presto un abbraccio a tutti a presto a presto a presto ciao studenti desidero ai corsisti e desidero ricordare la prossima lezione sarà giovedì 23 e il volume e la prossima ciao a tutti buonasera buonasera a tutti ciao ma mi sento quando parlo io benissimo allora dicevo che il volume che sarà insaminato la professoressa Anna Maria Anselmo e ma sempre tutte le donne e voglio anticipare stasera che la lezione di ciò di che andiamo in scuola che meravisco dedicato a giudia al centro del libro a cui già sospira per serbiate grazie e mostro grazie a tutti